salve a tutti questo mio podcast sull'amore tra parenti perché stavo vedendo un film con mamma e praticamente parlava dell'amore tra due attori molto famosi è ecco su una piattaforma di streaming e praticamente questo film racconta che questi due attori alla fine si scoprono che non sono fratelli ecco sembra in un primo momento che siano fratelli perché scoprono prima lei attraverso che aveva parlato con la madre sua di lui del padre ecco e poi lei la madre di lui cerca di parlare con lui ma lui non gli vuole parlare la evita e lei sa tutto quello che sa insomma quello che gli ha detto la la madre di lui e che succede che in questa seconda serie che ho visto le prime due puntate intanto manca la terza di vedere praticamente lei la madre di lui ha un incidente mentre sta andando da lui a parlargli e gli viene in mano messa i freni della macchina e che succede succede che va in coma allora lui che fa mentre la madre sta in ospedale in coma fruga nella borsa della madre e trova una foto di una persona che crede che crede che sia il padre e allora che comincia a fare di nascosto dalla vicina e comincia a prendere tutte tutte le cose per avere dna di questa vicina insomma perché perché dico questo perché involontariamente lui ha buttato per terra una borsa di questa vicina e praticamente gli è cascata la stessa foto che che lui ha scoperto sulla borsa della madre allora indaga praticamente a un certo punto che fa fa il test del dna però glielo dice a lei poi a un certo punto perché viene costretto che glielo deve dire e quindi fanno questo test e per fortuna risulta che è insufficiente ecco il dna quindi che non sono fratelli allora lei fa un respiro di sollievo e lui mi dice e se gli ha detto prima di test del dna gli ha detto anche lei gli ha detto a lui e se dovessimo essere fratelli lui l'ha guardata e l'ha carezzata ecco cosa voglio dire che a concludere che l'amore tra fratelli o sorelle o di altra parentela sempre della stessa famiglia non importa è sempre è sempre un bene insomma ecco questo è la descrizione che volevo fare perché l'amore a concludere può servire a trovarsi anche tra un fratello o una sorella nella vita perché può essere utile nei momenti della vita anche bui anche di gioia ecco anche di malattia quindi soprattutto quelli di malattia possono essere tanto utili quindi è un bene avere qualche legame di parentela certo sarebbe meglio non averlo tra uomo e donna per sposarsi però va bene anche così ciao a tutti